Ilaria è una delle pioniere della cooperativa sociale le agricole, branca della comunità Progetto Sud. Accoglie gli ospiti, fa loro un magnifico caffè, si occupa del punto vendita in una cooperativa speciale fatta da donne, donne di etnia rom o con disagio e che ora si sta adattando alle esigenze di un territorio che cresce, dando spazio anche ai rifugiati politici ospiti dello Sprar e ai minorenni non accompagnati della comunità Luna Rossa. Il tutto in una sola ottica, fare agricoltura sociale, dare un'opportunità a chi vive un momento di difficoltà e raccogliere i frutti della terra. Ma le difficoltà non mancano. Favolire i fondi, arrivare facilmente a cedere a finanziamenti, a crediti che ti possano favorire un lancio, un rilancio dell'impresa e della produttività. Ma le difficoltà non piegano da anni in questa realtà solo apparentemente di vetro, ma nella quotidianità, forte come solo alcuni arbusti, sanno essere. Qui tutti hanno spazio, ognuno ha il suo compito, ognuno dopo poco entra in contatto con la terra, ne respira i ritmi e i bisogni. E anche se c'è ancora molto da fare, le ambizioni non mancano. Tiziana Bagnato per la CNews24